Musica Quest'oggi siamo a Selva di Cadore, siamo venuti a trovare il sindaco Lorenzini qui nel suo municipio. Buongiorno. Buongiorno. Voi siete naturalmente stati coinvolti, questo paese è stato chiamato alle urne qualche mese fa in autunno e si è insediato tutta una nuova squadra di lavoro, una nuova squadra amministrativa e quindi le chiederei di tracciare un po' un bilancio di questi primi mesi, che cosa avete trovato e da cosa siete poi partiti per la vostra azione? Sono sicuramente stati dei primi mesi particolarmente intensi, si veniva come è noto da un periodo di commissariamento che quindi tendenzialmente porta un po' a un rallentamento della macchina amministrativa e a una messa in stand by di alcune problematiche o di alcune esigenze anche della popolazione, dei privati e soprattutto quindi è stato necessario riprendere un attimo il ritmo con una squadra tutta nuova a parte un consigliere che faceva parte della ex amministrazione Cestaro e quindi un po' inesperta, riprendere il ritmo in un momento comunque caratterizzato dalla mancanza di due figure importanti all'interno della struttura amministrativa comunale quali il responsabile dell'area tecnica che è andato in pensione a settembre ed il responsabile della parte amministrativa contabile che si era spostato in altro comune sempre nei mesi autunnali. Quindi ci si è ritrovati senza queste due pedine importanti e con un bel problema da risolvere, il problema da risolvere è che è il risultato più problematico del previsto, diciamo così, perché è un periodo con particolare difficoltà per trovare dipendenti, soprattutto dipendenti pubblici, soprattutto dipendenti pubblici formati e soprattutto tecnici. Abbiamo fatto prima un concorso per la parte amministrativa contabile che è andato bene, ma il cui vincitore ha poi deciso di cambiare comune dopo qualche mese e poi abbiamo fatto dei concorsi per quanto riguarda l'area tecnica che sono andati meno bene e adesso stiamo cercando di trovare una soluzione. Abbiamo comunque promosso a responsabile l'istruttrice tecnica che aveva esperienza ed è stata una scelta quanto mai azzeccata perché se lo meritava e perché era appunto di esperienza. Adesso stiamo cercando di trovare degli equilibri che tuttavia al momento non abbiamo ancora trovato e che comportano mole di lavoro aggiuntiva sui altri dipendenti pubblici, su consulenti esterni e sull'amministrazione e in primis anche sul sindaco che ovviamente si trova un po' a dover arrabbattarsi e gestire cose che non sono propriamente da sindaco ma forse sono quasi più da funzionario. Ecco, il tutto, lei diceva, appunto questa situazione di personale arriva con un'amministrazione nuova. Questi però sono tempi in cui si chiede sempre una maggiore velocità nell'elaborazione dei progetti per partecipare a bandi. Immagino che qualche difficoltà... Tutto dall'oggi al domani. Di questi tempi, tutto dall'oggi al domani, di fatti l'impegno è stato grande sia per non perdere i contributi annuali, sia provinciali che statali, sia per partecipare alle varie possibilità del PNRR e di altri bandi. Ecco, immagino che già queste figure tecniche sono difficili da trovare e poi trovarle in paese penso sia praticamente impossibile perché siete pochi. Sì, siamo un piccolissimo paese di montagna che tuttavia vive di turismo che quindi vede nei momenti di alta stagione andare sopra le 3.000 unità in paese. Quindi i problemi di un piccolo paese diventano i problemi di un paese sempre piccolo, ma piccolo-medio, insomma. Quindi Selva di Cadore ha le sue complessità come comune, questo è risaputo, ha le sue grandi possibilità, ma ha le sue complessità. E lotta contro lo spopolamento? Lota come tutti contro lo spopolamento. Noi l'abbiamo messo al primo punto del nostro programma elettorale. Abbiamo individuato un assessorato specifico con l'assessore Dolcetta alla scuola, alla famiglia e al contrasto dello spopolamento. So bene che è un tema che è affrontato da studiosi, da politici, da amministratori locali da decenni. Tuttavia io ritengo che non sia un problema o un fenomeno a cui non si può contrastare. Ci sono delle azioni sicuramente a scala regionale, a scala provinciale che vanno fatte, ma ci sono tante azioni che possono essere fatte anche a scala locale. Tutto questo rientra poi in un contesto di cambiamenti climatici e di flussi di popolazione che è una variabile difficilmente prevedibile. Io sono convinto che nei prossimi 5, 10, 15 anni ci saranno delle sorprese da questo punto di vista. I flussi di genti che si sposteranno verso la montagna saranno a mio avviso più ingenti di quello che si prevede e che sicuramente andranno a contrastare questo fenomeno già di per sé. È ovvio che queste genti non sono montanari e quindi dovranno abituarsi, qualcuno resterà, qualcuno andrà via, però bisogna già finora mettersi nella testa di far partire alcune iniziative per accogliere queste persone in un contesto come quello di Selva di Cadore che è un problema abitativo inteso come affitti alti e pochi appartamenti ad affitto annuale e dove costruirsi casa risulta molto complesso, soprattutto con Cortina 2026 che è dopo domani. E quindi i prezzi che inevitabilmente aumentano, quindi bisogna cercare di accogliere le genti che verranno, fermare le genti che sono qui, questo è il primo punto, mettendo in alto politiche di servizio alla famiglia e di aiuto e cercare di porre in essere degli interventi di mantenimento degli aspetti culturali per evitare che poi questi flussi di genti vadano a snaturare quello che è la cultura, le tradizioni e l'essere da Selva di Cadore, insomma. E Bando Borghi, insomma, avevate delle idee, no? Il Bando Borghi, abbiamo partecipato alla linea B e è stata l'occasione per mettere a terra, quanto ho appena detto, concretizzare con interventi specifici questa, la teoria. Quindi ci siamo incentrati totalmente sul contrasto al spopolamento. Il progetto ha un fulcro che è la Casa Canonica di Santa Fosca, che verrà, nel caso in cui ovviamente si possa usufruire di questi importanti finanziamenti, verrà utilizzata in parte a Centro Servizi per la Famiglia, alcune ale del Piano Terra, alcune stanze del Piano Terra, un'altra buona porzione del Piano Terra ha archivio storico, parrocchia, proprietà collettive e regole. Comune, quindi un centro, un archivio storico importante per il mantenimento della cultura locale e restante parte dell'edificio ha appartamenti che verranno eventualmente dati a prezzi agevolati o un appartamento per il parroco, guardia medica o dipendenti pubblici. Questo era l'intervento centrale, da cui poi si dipartono altri 9 interventi che vanno a toccare sia la promozione turistica e l'accoglienza, sia la realizzazione di itinerari culturali, sia degli importanti interventi incentrati sulla scuola primaria. Quindi un progetto molto complesso che ha visto molto lavoro da parte del sottoscritto, dell'amministrazione, di tutto il consiglio della maggioranza a cui va il mio ringraziamento, all'ufficio tecnico ovviamente e ai consulenti. È un bel progetto, io sono fiducioso, poi se va bene, bene, se va male, bene comunque, perché è stata l'occasione per appunto mettere a terra e concretizzare alcune politiche che vogliamo comunque portare avanti. Ecco, avete partecipato, state partecipando, state preparando altri bandi? Stiamo cercando di preparare altri bandi, c'è un bando sulla coesione sociale che scadrà a breve, nostra intenzione è partecipare, ma dobbiamo ancora mettere a punto alcuni aspetti, che andrà sempre col filo conduttore di dare servizi alla famiglia, di aiutare appunto le giovani famiglie nell'accudire, nel trovarsi il tempo sia per accudire i loro figli sia per lavorare e poi abbiamo approfittato di un bando sulla progettazione dove è stata inserita la possibilità di procedere a una progettazione di un edificio in centro Santa Fosca. Inoltre abbiamo chiesto la partecipazione a un bando per le infrastrutture e per la viabilità, un bando provinciale, abbiamo inserito il progetto della piazza Santa Fosca, che è il progetto ereditato dalla passata amministrazione che verrà aggiustato in pochi punti in base alle volontà dell'attuale amministrazione e prevediamo, se tutto va bene, di farlo al prossimo anno ovviamente andando ad aggiungerci dei fondi, si spera dei contributi aggiuntivi presi da qualche parte. E tutto poi, come dire, mischiato a altri poi interventi che state pensando di fare sul territorio, no? Beh, gli interventi sul territorio non sono pochi, perché comunque questa amministrazione ha appunto ereditato un piano post-baya, chiamiamolo così, sviluppato su varia normalità 19-20-21, che aveva seguito l'amministrazione Cestaro in maniera ottima e che quindi ha permesso all'attuale amministrazione sia di portare a conclusione alcuni importanti interventi che stanno per essere conclusi sulle strade silopastorali e in particolare la silopastorale 1, l'Aiva, Costazza, Col della Chizza e la messa in sicurezza dell'abitato di Pescura attraverso l'esbosco in alveo di alcune piante e dell'organizzazione di scogliere sul torrente cordon, sia poi mettendo appunto in opera i nuovi finanziamenti post-baya 2021, che sono due interventi, principalmente due interventi di grosse dimensioni, entrambi superiori al mezzo milione di Euro, uno che riguarda la piccola frazione di Vidot con la sistemazione di una strada che era stata martoriata da Baia e che comprende peraltro anche tutta l'assestimazione del versante che guarda sullo SP251, quindi un intervento sicuramente necessario, definitivo, e un altro che peraltro è già partito a marzo e che quindi probabilmente già prima dell'estate verrà quasi concluso, un altro intervento che riguarda sempre il torrente cordon, la sostituzione e la realizzazione di nuovo ponte, la messa in sicurezza degli argini con scogliera, la realizzazione di un intervento ciclo, di un percorso ciclopedonale che quindi va sì a tutelare il territorio dal punto di vista idrogeologico, ma che bene anche si integra con le esigenze turistiche della zona. Ecco, partiamo con un ragionamento da Baia. Ci ha insegnato che rimanere isolati nei paesi di montagna è un danno che può, diciamo, protrarsi anche per un po'. Voi avete avuto il problema poi della strada, no, verso il comune di Alleghe. Poi è arrivato il Covid, altro periodo duro, in cui si è intensificato per esempio il bisogno di rimanere a casa, lavorare da casa, studiare da casa. A livello infrastrutturale, Selva ha bisogno di ancora qualche aggiustamento? La situazione è migliorata negli ultimi anni, vedendola anche poi da cittadino. La situazione è migliorata sicuramente negli ultimi anni, è poi in previsione l'interramento di tutta la linea elettrica e tutta la Valle Fiorentina, da Selva fino a Passo Staulanza e che comporterà in caso di calamità naturali di evitare quei che sono stati problemi enormi sotto Baia. Anche per quanto riguarda la digitalizzazione sono stati fatti passi avanti, questo è indubbio. Quindi il futuro secondo me si presenterà sempre più adatto, anche sempre più pronto per soddisfare le esigenze di eventuali persone che possono lavorare da casa a Selva di Cadore. Tra l'altro entrando in municipio, visto che c'è anche l'app. Sì, sì, beh, certo. C'è l'app proprio del comune, quindi ok il paese di montagna, ok le tradizioni, però insomma c'è. Certo c'è un sostegno, per quanto riguarda gli interventi una cosa aggiuntiva da aggiungere che non è secondaria, ci sarà un importante intervento quest'estate sulla messa in sicurezza della viabilità, soprattutto per quanto riguarda marciapiedi. Selva di Cadore si sviluppa su più frazioni lungo tutta la valle, collegate tra loro da una rete di marciapiedi molto sfruttata, sia da residenti che da turisti. Sono previsti due interventi molto importanti che ammontano a più di 500 mila Euro complessivamente, per cui si sono integrati alcune forme di contributo e poi ci abbiamo ovviamente messo del nostro. Realizzazione del marciapiede Tronc-Costa che dovrebbe iniziare a settimane e la manutenzione straordinaria e rifacimento di tutto il marciapiedi della via 4 Novembre Passadora, che è la salita che porta da Selva verso Santa Fossa, quindi è un intervento molto importante, volto appunto a mettere in sicurezza i fruitori di questa rete di marciapiedi. Grazie per averci accolti. Prego, grazie a voi. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.